Siamo qui al Festival di Venezia per presentare Materia Viva e siamo ospiti di Giffoni Hub. Perché siamo qui? Perché Giffoni, secondo noi, è il veicolo giusto per portare questo documentario ai giovani. La mission di questo documentario è portare più persone, anche giovanissime, a conoscenza di quello che cosa vuol dire avere un telefonino in mano e poi quando è a fine vita cosa farne. Ecco, dobbiamo divulgare il più possibile questo messaggio e poi onestamente anche qualche adulto non lo sa e per cui magari i giovani poi potranno raccontarlo anche ai meno giovani.